Il fuoco ai tre vigili del fuoco deceduti in servizio a Catania, Vincenzo Lima, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico. Si è parlato di questo e di tanto altro questa mattina con il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Castiglione, nel corso di un incontro a fare il punto il coordinatore regionale del sindacato USB dei vigili del fuoco, Carmelo Barbagallo. Lo sentiamo. Oggi incontro al Comune di Catania con il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Castiglione, dove si è discusso per l'intitolazione di via o piazze ai colleghi che hanno perso la vita in servizio, cioè Vincenzo Lima, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico. Oggi il Presidente del Consiglio ha confermato l'impegno preso in questi mesi, che porterà al Consiglio Comunale e anche davanti al sindaco per far sì che questo avvenga dopo un iter burocratico che verrà affrontato. Oltre a questo vogliamo ringraziare tutto il Consiglio Comunale e il sindaco per il premio che verrà assegnato quest'anno ai vigili del fuoco di Catania, cioè il premio più importante è la Candelora d'Oro.